Benvenuti dal vostro Anaro Sensei Penso che chiunque ha avuto problemi di connessione internet e non mi riferisco solo al classico download basso, upload, ping instabile, jitter che va a caso eccetera eccetera mi riferisco anche magari a totale assenza di connessione internet banda che si disconnette, problematiche di connessioni che non avvengono ad esempio su un browser che non avvengono in determinati programmi eccetera eccetera chi non ha mai avuto problemi similari secondo me non è umano perché obiettivamente soprattutto in Italia le nostre connessioni internet fanno abbastanza acqua da tutte le parti a partire dal modem router che magari vuoi per il firmware vecchio perché ci sono le colonnine vecchie ci sono sempre problemi dei più svariati tipi oggi vi insegno e vi spiego come risolvere al meglio in pochi minuti veramente con qualche clic i problemi principali che potreste avere e non solo grazie ad alcuni trick ok chiamiamoli trucchi del mestiere potrete anche aumentare la vostra banda o addirittura sistemare problemi di lag in videogiochi eccetera eccetera tutto questo però dopo esservi iscritti al canale aver attivato la campanella per eventuali altri video esservi iscritti al mio canale instagram anaru.sensei in cui troverete una marea di cose molto ghiotte quindi non vi dico altro e niente se volete potete addirittura abbonarvi al canale supportarmi e ricevere in regalo una VPN illimitata detto questo sigla ribenvenuti dal vostro anaru sensei riprendiamo il discorso e siamo arrivati a come fare queste bellissime magie molto molto semplice basta andare sulla barra start del nostro windows scrivere cmd como milano domodossola o prompt dei comandi andare sopra appunto a prompt dei comandi tasto destro e esegui come amministratore diamo conferma ed apriamo questa schermata che ci salverà la vita utilissima per risolvere i più svariati dei problemi una volta fatto questo basterà andare sotto a questo video ok andare su mostra altro e scorrere fino a link utili in questo caso troverete tutte le stringhe necessarie per risolvere i vostri problemi primo problema rinnovare l'indirizzo IP se siete senza connessione internet e avete paura che non sia un discorso dovuto al vostro modem o alla linea la prima cosa da fare è scrivere il comando ipconfig slash release ve lo lascio qui comunque copia incolla lo incollate dentro il vostro prompt date invio e poi date invio a ipconfig renew che cosa fa? non fa altro che disconnettere la vostra connessione internet e ricreare un nuovo indirizzo ip ora se avete un indirizzo ip statico l'indirizzo ip sarà esattamente lo stesso però farete un reset se avete un indirizzo ip dinamico vi cambierà è come staccare e riattaccare il vostro router sostanzialmente però senza farlo fisicamente questa è una delle principali cose da fare quando avete proprio assenza totale di internet poi se avete bisogno di andare leggermente più veloci aumentare o risolvere problematiche di connessione potete svuotare la cache del dns che cos'è la cache del dns? in pratica chi mi segue sa che cosa sono i dns ovvero delle stringhe dei nomi che vanno a sostituire indirizzi ip complessi in modo da facilitare e velocizzare la connessione internet esempio invece di connettermi all'indirizzo 198.cccpppp 10-20 numeri posso connettermi a google.com esempio molto più facile da ricordare molto più veloce mi abbassa i tempi e tutto quanto però può essere che il vostro computer abbia la memoria dei dns che ha imparato utilizzando internet magari è buggata può avere qualche problema e quindi non riconoscere più il corretto indirizzo dns e il suo rispettivo indirizzo ip reale quindi cosa facciamo? andiamo a prendere il comando ipconfig slash flash dns o flush dipende come volete chiamarlo ok andiamo su il nostro prompt lo incolliamo e diamo invio la cache del resolver è svuotata ora si riparte da zero in modo da avere una connessione più pulita altra cosa che può tornare utile è ripristinare il winsoc che cos'è il winsoc? anche qui è una serie di indirizzi che servono per collegare il vostro windows ha tutta una sorta di beh come ve lo spiego è difficile da spiegare fatelo e basta copia e incolla andate con fiducia e si riemposta il winsoc vi dirà anche lui è necessario riavviare il computer per completare l'operazione questa cosa però ve la consiglio in ogni caso dopo aver fatto qualsiasi di queste operazioni ok? quindi anche quelle successive saranno da attivare con riavvio non arresta riavvio ora una cosa che può essere assolutamente utile per aumentare realmente la banda e diminuire lag disconnessioni eccetera specie in game può essere utilizzare il net shield è un comando un po' particolare che attenzione comprende tanti comandi differenti ogni comando fa qualcosa di specifico e personalmente ho diviso in due categorie i comandi consigliati e i comandi solo per esperti ora ne capiamo qualcosa di più prima di tutto la cosa che consiglio di fare a tutti è di verificare l'autotuning che cos'è l'autotuning l'autotuning è un servizio di windows che esiste da windows vista se non ricordo male e serve per automaticamente adattarsi alle varie esigenze ed avere la connessione internet più più performante qual è il problema il vero problema è che se l'autotuning lavora male o è lento eccetera può creare il problema opposto perché lavorando male mi lavora male anche la connessione internet quindi cosa facciamo copiamo il comando che vi metto qui e diamo invio il risultato è vedere se è attivo o disattivato la funzione ok cosa dobbiamo cercare dobbiamo cercare livello di regolazione automatica disabilitato in questo caso come vedete io l'ho disattivato perché disattivandolo abbiamo più facilità che appunto questo servizio lavori male facendo così va in maniera standard in maniera predefinita possiamo attivare o disattivare questo servizio seguendo la striscia la la stringa che vi pongo qui ovvero net int tcp set global autotuning level normal invece di normal si mette disable disabled come volete dire voi per attivare o disattivare attenzione questo dovete darci un'occhiata voi se avete delle migliorie dei miglioramenti o meno ci sono persone che con normal si trovano bene persone che con disabilitato si trovano meglio io personalmente da quando ho messo disabilitato ho la connessione più stabile lavora meglio possiamo anche verificare il ridimensionamento dell'euristica di windows che è sempre un altro tipo di servizio che offre windows ok per sistemare la connessione andando su invio andiamo a scoprire se è abilitato o disabilitato dovrebbe essere disabilitato se non lo è qui dovete copiare e incollare questa stringa per appunto disabilitarlo e questa è una cosa che consiglio di fare a tutti ok ora solo per gli utenti esperti queste sono delle stringhe che vi lascio in promemoria per sistemare e adattare e configurare altre tipologie di parametri banalmente la butto là per spiegare un po' a tutti questi parametri è possibile ad esempio con il chimney o penso si dica così è possibile disabilitare la scheda video che lavora diciamo fa il lavoro sporco della connessione di rete e si dà tutta quanta nella struttura della scheda di rete reale si fa lavorare solo la scheda di rete sostanzialmente questa è una cosa fattibile che velocizza che sistema e che dà meno carico alla scheda video ma si può fare solo se la scheda di rete è predisposta per fare questo e per saperlo bisogna andare dentro le impostazioni della scheda di rete bisogna cercare bisogna provare perché altrimenti rischiate di avere peggioramenti molto molto pesanti perciò questi sono tutti quanti i parametri che possono essere attivati o disattivati ma a vostro rischio e pericolo assolutamente io non li consiglio di toccarli ve li lascio potete informarvi se siete del mestiere ma lasciate perdere tutto quanto il resto ultimo ma non ultimo un altro trucchetto potrebbe essere quello di aumentare la velocità dello streaming come funziona tantissimi ISP ovvero internet service provider in poche parole il vostro gestore telefonico il vostro gestore telefonico esempio telecom fastweb vodafone team wind iliad quello che volete può ridurre in base anche alla tipologia di contratto senza dirvelo anche a volte vedi linkem linkem vi fa navigare a manettone durante qualsiasi transazione internet possibile ma se siete a scaricare in torrent se siete a scaricare in p2p se siete a scaricare streaming eccetera vi riduce automaticamente la banda per me è una truffa assurda nonostante che cioè nonostante le iene fanno un sacco di pubblicità di linkem io lo trovo una truffa assurda queste sono le imitazioni che vengono fatte proprio dalla casa madre del casa madre diciamo così del provider è quasi impossibile fregarlo c'è qualche sistema per eliminare questo blocco è possibile smanettando sul router è possibile facendo varie robe se volete provare un tentativo extra è di incollare questa stringa che non fa altro che aggiungere una regola al vostro firewall per fare in modo di sbloccare questa restrizione può funzionare come no è l'ultima spiaggia diciamo prendere il telefono e insultare qualche operatore è sempre la strada migliore perché altrimenti se loro chiudono i rubinetti la vostra connessione internet in ogni caso non va da nessuna parte tutto questo comunque si traduce in copiare e incollare le poche righe che vi ho fatto vedere e grazie alle quali potete sapere come funziona la vostra scada di rete e quali sono i parametri attivati o disattivati queste sono appunto le stringhe principali che consiglio di sapere o comunque di ricordarsi e che ve le lascio appunto sotto in descrizione nel mio video se avete bisogno ve le ricordate andate a vederle di volta in volta e sono lì apposta per voi spero che sia stato un video utile se è stato così vi ringrazio di esservi di esservi visti tutto quanto il video fino alla fine se l'avete fatto e basta se avete altri altri dubbi domande o delle stringhe aggiuntive basta metterle sotto nei commenti e dopo io se vedo che sono stringhe sicure pulite eccetera ve le piazzo sotto in descrizione faccio qualche piccolo aggiornamento diciamo datemi la vostra opinione iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima puntata bye bye ciao Grazie per la visione!